Non si sarebbe mai messo al volante con le nuove norme del codice della strada. L'uomo che lo scorso maggio era appena tornato in possesso della patente e si era messo di nuovo ubriaco alla guida ed aveva travolto ed ucciso una donna, Vanessa Bonatti, di 50 anni. Una tragedia che si era consumata in provincia di Arezzo. Erano le 10 di mattina. Chi è recidivo, soprattutto, non possiamo pensare che non valga nulla o sia equivalente a chi non è mai successo. Adesso il disegno di legge sulla sicurezza stradale, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede una stretta su chi si mette alla guida ubriaco sotto effetto di stupefacenti. Tasso alcolemico zero per chi è già stato condannato per aver guidato in stato di ebrezza. Per i recidivi, previsto poi anche l'obbligo di montare l'alcol lock sull'auto. Tutto ciò che può essere blocco per chi, anche alterato, è obbligato a fare perché è un automatismo, è tutto positivo. Linea dura anche per chi tiene una mano sul volante e l'altra sul cellulare. È infatti prevista la sospensione della patente per un periodo che va da 7 a 15 giorni. La prima causa di incidentalità, al netto di tutto, è la distrazione. Purtroppo questo lo comporta non tanto il fatto di telefonare, che è già grave, ma è l'utilizzo dei cellulari come strumento per chattare. Se io prendo il cellulare, lo guardo e poi torno a guardare la strada, è chiaro che quell'interfase tra la concentrazione e lo sguardo sul cellulare e sulla strada passa quei secondi, quei decimi di secondo, ma comunque del tempo. È come se viaggiassi bendato e quindi succede il disastro. Tra le misure di prevenzione previste nel disegno di legge, infine corsi di educazione stradale. Tante persone purtroppo hanno potuto capire questa cosa solo dopo l'incidente. E questa è troppo tardi.